2, 3, 4 2, 3, 4 E' andata di là E' andata di là Aspettate Allora ci vediamo dopo Cupida 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 Come sono contenta Ero così preoccupata Ero così preoccupata Perché non trovavo la mia borsa E' rimorzata la borsa E' un po' E' un po' E' un po' Ma vina Posso farvi una domanda? Ma cosa che ci hai messo in questa borsa Che pesa un milione di miliardi di connellate? E' un po' 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 Ma come sei noioso! No di più! Siamo i guardiani della torre! Come è piccolo? Oh allora io vedo che piccolo andate! Ciao! Ma dove va? Oh lui si mette a pescare perché si rilascia così! Oh si? Ma scusa come fa a pescare se non c'è il mare? C'è solo l'erba, la terra, la terra, la terra, la terra... Ma perché questo qui è matto? Ma matto, matto, matto! Ma che matto non ci puoi perché qui non c'è né mare, ci c'è la terra, e pure lui si mette a pescare! E tu cosa fai? Aspetta il proletto! Oh buongiorno! Che tu sei? Io? Beh io sono... sono... sono mobida! Oh piacere! Io sono... ah! Sono giro! E' il vostro che poi... C'è una mia certa bellezza eh! Che cosa c'è? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Vediamo un pochettino! Oh che si fa l'impasto della pizza! Quante orecce belline che c'hai eh! Che cosa possiamo fare? Oh questa è farina! E con la farina che si fa? E che si fa? E che si fa? E che si fa? Un bel pezzo di pane! Oh mamma mia! Ma posso mangiarlo? Ma certo! Sicuro! Ma ci mettiamo dentro quello che volete noi! Ah ti fa! Allora! La pizza! La pizza! La pizza! La pizza! No! Ci mettiamo una silla! Ah noi come piacciono i palini! Sentiamo! Palini! Sì! 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 Allora lo volete il panino eh! Lo voglio! E per carità! No no! Eccolo qua! Non ecco mi fa male! Ma no! E che male ci fa il pane! E che male ci fa il pane! E' soltanto appelenato! Ma voi state in silencio! e che male ci fa il pane! E che male? Fa! E che male? Sì! Marine! Ma è fantastica! Ma quanto forale c'è un più scontino? Aaaaaaaah! Dì! Viva! Uno! Due! Tre! Dornate fuori a me! Andiamo! Uno! Due! Tre! Dornate fuori a me! Dovete sapere che esiste una leggenda, una leggenda che dice che tanti 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 anni fa un papà costruì una torre enorme, tutta di cristallo, tutta lucidante, lucidava tantissimo. Bene, adesso io uso la mia pistola, spara bolle, sì, e io ti sfido, sì, no, ma che cosa mi sfido? Sfidati, sì, mostro, sì, io ti sparo una bolla, sì, e con questa bolla ti dimostro, sì, una fantasia, dopo, sì, avanti, vediamo. Ehm, sei pronto? Sì, uno, due, tre, pum, non è successo niente. Vuoi il mio papà, me lo so? Forse con l'aiuto dei bambini. Certo, vediamo, con l'aiuto dei bambini. Ti chiedi così? Senti, Camina, io vedo la stupata, cominciamo a vedere. Senti, Camina, io vedo la stupata, cominciamo a vedere. Senti, Camina, io vedo la stupata, cominciamo a vedere. Senti, Camina, io vedo la stupata. Senti, Camina, io vedo la stupata. Grazie. 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 Grazie.